Ciao. Bart, abbiamo un problema. Non per mettervi fretta, ragazzi, ma per amore della chiarezza. O mi pagate tutto quello che mi dovete entro un mese, con un interesse, diciamo 20%, oppure una di queste notti vi faccio entrare in casa un paio di amici miei. Slavi, con le loro cassette degli attrezzi, che vi romperanno dita e ginocchia ammartellate e poi vi infileranno il martello nel culo. È chiaro? Chiaro. Chiaro. Un mese, 30 giorni, domani 29. Arrivederci. Arrivederci. Signorina, via Maggi. Mi spiace. Beh, poteva anche andarci peggio, eh. Sì. Eh sì, se ci pensi dopo le ginocchia e le tita, ma che te ne frega del culo? Beh, questo è vero. Grazie. Grazie.